Nel suggestivo centro storico di Calliano in provincia di Asti, il comune e la Proloco vi invitano alla sesta edizione di Tra Piazze e Cortili. Lunedì primo giugno e martedì 2 dalle 18.30 e fino a tardanotte, i vicoli, le piazze e i cortili di Calliano si aprono per incontri di musica, danza e tante degustazioni. Ampi parcheggi per le auto e una nuova area camper. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS